Buona notte, Catnap! Sento l'odore della cena! È ora di mangiare! Buon appetito a me! È così delizioso! Proviamo! Un attimo! Che sta succedendo? Allontanati da lei o te ne pentirai! Troom trick! Ti sei lavato i denti! Ora tocca a me! Prendi questo! Oh, che mi sta succedendo? Non metterti mai più contro di me, sacco di pulci! Ora andrai in prigione! Sei così pesante! Ce l'hai fatta per un pelo! Bentornato a casa! Ehi, ma dove sono? Che mi è successo? Ehi, fatemi uscire! Cosa? Che faccia tosta! Non sembri neanche un mimo! È così che si fa! Troom trick! Wow! Sono così liscio! Fantastico! Ha ha ha! È anche caduto! Va bene! E non pensare di scappare perché sarebbe peggio! Ok! Vediamo com'è andata a finire! Wow! Sono davvero bello! E ora pensiamo al prossimo passo! Un vestito! E dove lo trovo? Che cos'è? Qualcuno è nel mio letto! Questo non mi piace! Meglio stare attenti! Speriamo solo che non mi attacchi! Oh! Ciao! Campagna di Cella! Oh! Ciao! Piacere di conoscerti! Puoi aiutarmi a diventare un vampiro? Nessun problema! Bastano pochi clic! Troom trick! Ehi! Fammi uscire da qui! Non erano questi i piani! Troom trick! Wow! Beh! Penso che sia abbastanza! No! Non lo è! Non sono una Barbie in un mondo di Barbie! Toglimi questa cosa di dosso! Che ridere! Troom trick! È quello che mi serviva! Fantastico! Grazie! Ottimo lavoro! Oh! Mi gira un po' la testa! Ora va meglio! Mi hai davvero aiutato! Sono felice di essere d'aiuto e sembra che la strada sia libera! Esatto! La porta è aperta! Usciamo da qui! Ma... Ok! Questa porta scricchiola tantissimo! Speriamo che non svegli la guardia! Oh! Ce l'abbiamo fatta! Siamo quasi arrivati all'uscita! Che figata! Oh! No! Non osare cadere! Ti prendo! Tutto sotto controllo? L'ho preso! Cosa? Oh no! Sapevo che non potevo fidarmi di te! Torna in cella! Oh! Corriamo! Dobbiamo nasconderci da lui! Ma dove? Non abbiamo scelta! Spero proprio che non ci veda! Potrebbe essere... Abbiamo degli ospiti! Oh! Oh! Wow! Bel mantello! Posso prenderlo in prestito e giù le mani! Lo sai quanto costa? Paga o vattene! Cosa? Non ho tutti questi soldi! Bene! Allora ho qualche richiesta da parti! Mi chiedo quale! Va bene! Che resta? Beh! Direi che ho completato tutto! Oh! Rimane lo scaletro del pesce! Ma dove lo trovo? Ci sono! Mi inventerò qualcosa! Quanta spazzatura! Sì! Eccolo! Fatto! Allora! Questo era l'ultimo oggetto! Ora posso avere il mantello! Perfetto! È tutto tuo! Grazie! Oh! Wow! Mi sta bene! Ma questi pantaloncini? Tron Trick! Oh! Wow! Sta volando! Oh no! Ah! Te l'avevo detto che non potevi sfuggire! Ora non uscirai mai più da qui! Ah! Potresti stare un po' più attento! Basta così! Non sognare più di scappare! Ti terrò d'occhio! Tron Trick! Che fortuna! Andiamo alla ruota! Tron Trick! E adesso che succederà? Zanne! Oh! Ho capito! Va bene! Apriamolo! Ottimo! Con questo avrò le mie zanne! Accendiamo! E ora aggiungiamo un po' di dentifricio! È ora di iniziare! Così rinfrescante! Così tagliente! Oh amico! Sei tornato! Che mi sta succedendo? Wow! Ora sono un vampiro anch'io! Wow! Non pensavo che avrebbe funzionato! Ha funzionato! Guarda! Sta volando! Wow! Hai talento! Oh! Che abbiamo qui? Un altro che cerca di scappare! Sta indietro! Ho detto sta indietro! Oh! Va bene! E ora devi pulire! Oh! Nel frattempo io mi riposerò! Beh, a quanto pare non ho scelta! C'è così tanta polvere! Oh! Un attimo! E questa foto! Il bambino non conosce i suoi genitori! Che tristezza! Povero bambino! Va bene! Ora basta spolverare! Butta via tutta la spazzatura in fretta! Anche io ho delle cose da fare! Devo superare questo livello! Un pipistrello! Ok! Ma che ci fa questo qui? Oh! Può tornare utile! Carte di caramelle! Oh! E questo cos'è? Un album di foto! Ha avuto una vita così interessante! Ehi! Oh no! Non avresti dovuto vederlo! Ho una telefonata! Pronto? Sì! Certo, signore! Non ho tempo per questo! Torna nella tua cella! Muoviti! E se tocchi ancora qualcosa... Sei morto! Bene! Ho ottenuto quello che volevo! Non sarei nemmeno accorto! E ora decorrerà la mia parete! Sono così subdolo! Oh! Quasi dimenticavo! Devo finire il mio nuovo look! Troop trick! Pantaloni! Sul serio? Beh, almeno non sono una coda! Ok! Devo pensare! Ci sono! Spero che funzioni! Oh! Cat on up! Hai chiamato? Sì! Guarda! Abbiamo la ricetta che ci serve! Guarda qua! Cosa? Davvero? Pipistrello, mano e sangue! Mescolare tutto insieme! Perfetto! Ce l'ho! Ho persino la mano! Ma dove posso trovare una goccia di sangue? Forse ce n'è un po' secco lì! Oh! Eccola! Non riesco a raggiungerlo! Oh no! Come faccio? Ho un'idea! Troom trick! Perfetto! Ora funzionerà! Prendiamo il sangue! Non vedo nulla! Oh! Ok! Lascia che ti aiuti! Grazie! Oh! Saltiamo! Oh sì! Non fermarti! Bene! Ho preso il sangue! Ottimo lavoro! Torna qua! Abbiamo tutti gli ingredienti! Ora mescoliamo e proviamo! Troom trick! Forza! Uh! Sta iniziando a funzionare! Wow! Assolutamente perfetto! Uh! Sembra buono! Ah! Ma cos'è? Una botola! Perché è qui? Che c'è qui sotto? E se la guardia torna? Va bene! Sprighiamoci! Copri! Mi sto andando! Anzi! Vieni con me! Guarda! Siamo liberi! Sembra libero anche! Uh! Uh! Ce l'abbiamo fatta! Oh no! Siamo circondati! Dobbiamo nasconderci! Uh! Sembra che siamo al sicuro! Dobbiamo fare molta attenzione! Andiamo! Non così in fretta! Cosa? Uh! Scappa! Lasciami andare! Smettila! Oh no! Sei scappato di nuovo, eh? Pessima idea! Ti avevo avvertito! Ti terrò d'occhio! Capito? E tu? Ehi! Non rallentare! Ma chi ti credi di essere? È una signora! Che maleducato! Wow! Che bellezza! Forse è stato il destino! Oh! Che bello! Wow! Uh! Che cos'è? What? Ha ha! Basta così! Niente più scherzi! Non lascerai la cella! Grazie per avermi difesa! Sei stato molto galante! Forse puoi aiutarmi! Mi manca la coda! Non so quanto potrò resistere così! Che incubo! Aspetta! So come fare! Dobbiamo far girare la ruota! Potresti vincere una coda! È così che ho ottenuto il mio completo! Proviamo! Guarda! Troom trick! Speriamo di essere fortunati! Forza! Ne abbiamo davvero bisogno! Oh no! Oh! Forza! Evviva! Ha funzionato! Che c'è che non va? Non lo so! Forse dovrei farla girare io! Cosa? Forse avevi ragione! Solo un minuto! Puoi prenderla! Continuiamo! Grazie! Sei il mio eroe! Allora come sto? Sei fantastica! Grazie! Hai visto? C'è un premio! Proviamo a prenderlo! Cosa? Certo! Forza! Tocca a te! Oh! Sono così nervosa! Troom trick! Spero sia il premio! Evviva! Oh! Cosa? Questo è il nostro figlio! Ehi! Sei tu questo nella foto? Non può essere vero! Bohu! Eh? Che ci fate lì? Uscite! Mamma! Mamma! Papà! Vi ho cercati per tanto tempo! Sono così felice! Finalmente ora possiamo andarcene! Perfetto! Non me ne sarei mai andato senza di te! E io non l'avrei mai fatto senza di te! Che cos'è? Dobbiamo sbrigarci! Corri! Oh no! Che confusione! Prendi questo! Ti conviene scappare! Oh no! Oh my god! Che è successo? È terribile! Ehi! Invece di litigare dovresti aiutare tua sorella a pulire! Con tutto questo casino sarà più facile comprarne una nuova! No! Forza, Vampy! Pulisci tutto! E fai il fretta! Ora tocca a te! Sì! Ho un'idea migliore! Dopo il nostro uragano di passione non rimarrà traccia di sporco! Vampy! Come posso resisterti? Preso! Ancora! Siamo una grande squadra! Siamo davvero forti! Fantastico, Vampy! Dov'è il nostro piano? Forse l'abbiamo buttato via! Stai parlando con me? Non ho battuto ciglio! Finalmente posso essere un'artista! Cara! A ravinare il mio sogno! Disegnare è una danza con il pennello! Vuoi ballare con me? Oh la la! Figlio! Papà è diventato una tela! Vampy smettila! Vuoi divertirti? Allora preparati! Molto meglio! Prendi i pennelli e dai sfogo alla tua creatività! Avremo bisogno di molta vernice! A tutta velocità, miei piccoli Picasso! Siete pronti? Troom troom trick! Oh, siete dei veri espressionisti! Il risultato è molto bello! Ce l'abbiamo fatta! Attimo lavoro, ragazzi! Oh no! Che cosa avete fatto? Attimo! Continui così! Dove ci eravamo fermati? Vieni, figliolo! Ti insegnerò a piantare dei chiodi! È facile! L'importante è non colpire le dita! Prendi la mira e... Oh, fa male! Poseidone perché mi hai mandato questo marito! Lascia che ti mostri come si fa! Troom troom trick! Ma questo io non posso farlo! Oh, d'accordo! Allora fatelo da sola! Non ci parlo più con te! Ho capito! Non colpirò le mie dita! Oh no! Cacciatori? È così che si fa, no? Tesoro, guarda! Credo che questo sia esattamente ciò che ci serve! Mettiamolo alla prova! Forte! Non ti dispiace, no? Oh wow! Fantastico! Che senti cosa hanno in servo per me le sirene? Wow! Prendiamo questo? Eh, non lo so! Cosa c'è lì? Stai parlando di questo? Scribidi du 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 du! Scribidi... Oh! Oh! Chiamo subito la polizia! Ok! Ti raggiungo! Avanti! Oh! La mia schiena! Tesoro, chiama un'ambulanza! È gustoso! Da leccarci le ossa! Oh! Cos'è questo odore? Oh no! Oh! Sono morto! Prendi questo! Ehi! Che vuoi? Tieni! Oh! Non la voglio! Ma che è questa puzza? Ok! Non mi resta molto tempo! Proprio quello che mi serve! La mia abilità mi ha salvato tante volte! Aggiungiamo un po' di stile! L'appendi abiti è pronto! E questo è per me! Oh! Me ne ero dimenticato! Torna da dove sei venuto! Dove? Oh! Tesoro! È così bello! Ma cos'è questo odore? D'accordo! Va bene così! Ora non butterai più la tua roba dappertutto! Wow! Papà! Bella idea! Devo inventarmi qualcosa! Ma da dove inizio? Ci sono! Appenderà un quadro! Perfetto! Sono un genio! E ora mettiamoci al lavoro! Che suono strano! Ehi! Ehi! Mi stai affogando! Oh no! Cat riderà di me! Tesoro? Stai bene? Bumpy! Hai dimenticato il pannolino? Ehi! Non è come pensi! Oh! Bumpy! No! Non posso fidarmi di te neanche delle cose più semplici! Vieni qui! Puoi vedermi? Oh! Io non ti vedo! Lasciami stare! Non è divertente! Mamma! Ha rotto lo specchio! Ne abbiamo uno di riserva! Oh! Sono di nuovo felice! Ed è così bello! Papà! Mi prende in giro! Dice che non sono nello specchio! Non preoccuparti, tesoro! Puoi sempre guardare il nostro ritratto! E ricordati che sei molto bello! Bambini! Ecco la lista della spesa! Mostrala al venditore! Forza, piccola! Io credo in te! Mamma sa davvero disegnare! Ehi! C'è qualcuno qui? Ehi! Ok, posso farcela da sola! Ho bisogno di questo! E di questo! Penso sia tutto! Fermati! Polizia di Troom Trick! Sei in arresto! Vieni con me, ladruncola! Lasciami andare, per favore! Ok, ragazzi! Decidete voi! Mettete mi piace a questo video! Se volete che lascia andare questa ragazza! Oh, questo non è male! Ragazzi, per favore! Ok, ma è l'ultima volta! Grazie, signora! Arrivederci! Molly, sei troppo gentile! Tesoro, sono così carini! Ok, pesce! Nessuno ti salverà! Proteggiti! Ti strapperò tutte le zanne! Prendi questo! E questo! Ehi! Non è giusto! Che hai fatto? Tesoro, quelli sono i nostri cuscini! Ok, ci servono dei cuscini nuovi! Bene! Il mio è quasi pronto! Manca solo qualche dettaglio! Tesoro, guarda! Oh, il mio occhio! E ora lo cucirò sul cuscino! Oh, papà, è il tuo occhio! Non preoccuparti, è solo uno scherzo! Guarda, è proprio dove dovrebbe essere! Oh, anch'io ho un trucco! Guarda, mi sono strappato al pallice! Oh, che paura! Benvenuti dal barbiere! Diamoci un taglio! Hai un aspetto meraviglioso! Guarda questa imbottitura! Devo riempirci la pedera! Ora la cucciamo in modo che l'imbottitura rimanga all'interno! Fantastico! Decoriamola con del tulle! Il rosa è perfetto! E ora un po' di magia! Questo cuscino è un sogno! È bellissimo! Oh, c'è cascata! Più veloce! Più veloce! Ed ecco la freda, il pesce dei miei sogni! Tesoro! Fammi una foto, questo è il mio record! Papà, hai sbattuto la testa! È solo un cuscino! Fammene anche una così e un'altra così! Ah, nella mia carriera ho catturato molti pesci! Ma tua madre è stata la migliore! Oh, è scivoloso! Te l'avevo detto di non mostrarlo ai bambini! Mi dispiace! Ridalle il suo cuscino! E vai a fare qualcosa di utile! Come ho fatto a innamorarmi di te! Buon pomeriggio! Cosa posso fare per voi? Stiamo cercando la vernice rossa! Quanto? Mi aspettavo un prezzo diverso! E adesso che faccio? Forse dovrei restituire il sangue? Tesoro, distraila! Ok, signora, puoi aiutarmi? Certo! Sì, donaci un po' di sangue! Aprirò la mia attività! Grazie per essere venuto nel nostro negozio! Ottimo servizio! Questa è la mancia! Andiamo! Oh, lo dirò a tutti che si sono conosciuti durante una battuta di pesca! Ti rendi conto? Stai innappiando il fiore sbagliato! Cosa? Non toccare, è mio! Tu non sai che farne! Questa è una decorazione per i nostri vasi! Per poco tu non li buttavi! Troom, trum, trì! Fatto! È un genio! Ora annappiamolo! No! Devi annappiarlo con il sangue! È un fiore di vampiro! Ma certo! Fatto! Troveremo un posto migliore! La nostra casa sta diventando sempre più accogliente! Guardali! Una moto! L'ho sempre sognata! Una moto! Oh, una moto! L'ho sempre voluta! La voglio! È mia! Oh, questi bambini! No, per favore! Non fatelo! Lasciatemi in pace! Oh! La mia bambina ha degli incubi! Ho un'idea! Le farò una chiappa sogni! Mettiamo questi fili sul telaio! E ora tutti faranno solo dei bei sogni! Ehi, che te ne pare? Oh? Non puoi spaventare un lupo di mare con questi trucchetti! Vieni qui! Oh, davvero? Allora prendi questo! E pensaci meglio! La prossima volta! Oh, bambina! È il tempo di fare uno scherzetto! Dammi il tuo tesoro! Ti trasformerò! Oh, no! Lo scherzo ha funzionato! Oh, no! Ci è mancato poco! Aspetta un attimo! Ho un'idea! Serve un secchio! Mettiamo un po' di colla a caldo sul bordo! Incogliamo gli spuntoni! E aggiungiamo delle ragnatele per creare l'atmosfera! Mettiamo un po' di piano in un altro secchio! Aggiungiamo una candela! Pronti! La luce notturna più spaventosa è la più bella! E soprattutto tutto sarà sano e salvo! Semplicemente perfetto! Oh, l'importante è non colpire le dita! Pulita e ordinata! Bevete, piccoli miei! È adorabile! Questa volta batterò il boss! Andiamo! Bambi, basta con i giochi! Ok, d'accordo! Ti comporti come un bambino! Questa sarà una lezione per te! Niente giochi finché non avremo finito il restyling! Ops! Devo andare! Sono pronto per il prossimo round! Oglio! Sei stata tu a fare questo! Scusa se ti ho distratto dai videogiochi! Ehi ragazzi, scrivetelo nei commenti! Anche i vostri genitori vi vietano di giocare! Sta imbrogliando! Beccati! Sarete bambini normali ora! Ma che succede? Lascia stare i nostri figli! Guarda cos'è! Finalmente ci incontriamo! Bambi, salvami! Troppo tardi! Ora sarà il mio giocattolo! Aiuto! Dov'è la mamma? Ciao ragazzi! Ehi, guarda! La prendo subito! Agganciata! Ehi ragazzi, vi vedo! È forte! Cos'è questo posto? Beh, ciao ragazzino! Penso che diventeremo amiche! Non aver paura! Come una punturina di zanzara! Ma una zanzara grande! Wow, sei bella! Sai una cosa? Posso farti diventare uguale a me! Che figata! Giochiamo a Twister! D'accordo, facciamolo! Spero che tu riesca a capirlo! Io ce l'ho fatta e tu? Ce la farò di sicuro anch'io! Ok, vestiti! Significa che è ora di vestirsi! Aspetta un attimo! Woohoo! Ho vinto il jackpot! Mi piace questo gioco! Oh, quasi dimenticavo! I pantaloni! E vissero felici e contenti! Aspetta, ma dove li ha lasciati? Oh, che peccato! Dove sono i miei pantaloni? Cosa? Ora sono un rapper! Aiutami! Smettila di urlare! Ti stanno davvero bene! Ma hai bisogno di un piccolo cambiamento! Prima la cintura! Troom troom trick! E ora hai dei veri jeans da vampiro! Che bello! Grazie santo! Solo un piccolo consiglio! Ma dov'è il mio portafogli? Tesoro, guarda cos'ho! Che sono? Che schifo! Perché non mi porti del cibo? Wow, ho preso il bucchetto e la sposa! Allora perché non lo sposi? Per fortuna ho un piano B! Che ne dici di un film? Ora va molto meglio! Andiamo! Avremo i posti migliori! Questo è il posto giusto! Non così in fretta! I vampiri non possono entrare! Sono le regole! Oh, che tristezza! Ok, ci vediamo! Fermati! Non vogliamo sedini bagnati! Un attimo, ci penso io! Ehi, piano, Dentone! Non ti ostacolerai, ragazza mortale! La strada è libera, tesoro! Andiamo! Almeno asciugate i sedili dopo! È stato un film molto bello! Lo guardiamo di nuovo! Oh, un attimo, dimenticavo! Grazie per aver fatto finta! Non c'è problema, Dentone! Grazie! Vediamo che succede adesso! Oh, è il momento dell'acconciatura! Credo di aver visto un trucchetto su YouTube! Lo farò vedere alla mia bambina! È fantastico! Possiamo farlo anche noi? Proviamo! Se sei pronta, accendo l'aspirapolvere! Mettiamoci al lavoro! Per prima cosa, metteremo tutti i capelli in uno chignon! Avanti! Pigo! Non muoverti! Ora ci penso io! Cosa? Che è successo? Ehi, ma dove sei? Bambina, sei qui? Prima lei, ora le mie labbra! Tesoro, ma che succede? È tutta colpa dell'aspirapolvere! Come ha osato! Bene! Ti sfido a duello! Allontana il tuo sacco dal mio amore, macchina infernale! Ti faccio vedere io quello che succede se ci provi con la mia donna! Prendi questo! Oh, Bambi, sei così carino! Piccola, stai bene! Oh, wow! Ti piacciono i miei capelli? Sì, sei molto elegante! Però facciamo una treccia! Sarà una combinazione super! Grazie, sono così belli! E sembro così diversa! È stata una dura lotta! Ma ho vinto io! Sono il campione dell'aspirapolvere! L'unica cosa che Ursula ha dato loro è stata la farina d'avena! Oh, per favore, basta! Ma che razza di mostro è? Ho paura! Salvami! Ma che succede, piccolo? Quella terribile Ursula è proprio lì! Non hai niente da temere! Dai, non fare il pifone! Sei un vampiro! Sì, hai ragione! Ho qualcosa per te che ti aiuterà! Quando indosserai questo mantello, tutti avranno paura di te! Capito? Devi essere coraggioso e audace! Perfetto! Ora sono un vero vampiro! Forte, batti il 5! Ehi, ma chi ti credi di essere, eh? Giusto! Giù le mani! Oh, ok, ho capito, va bene, non ti tocco! Questo sì che è il mio ragazzo! Bene, bene, bene! Puliamo! Tesoro, vuoi sposarmi? Ora? Non sono pronta per questo! Cosa? Dopo tutto quello che abbiamo passato? Dovresti dire di sì! Questi trucchi non funzionano con me! Ragazzi, pensate che dovrei dire di sì! Allora mettete un like a questo video! Hai visto, vamp? Oh no, ragazzi, vi prego, mettete un like! La sirena è il mio unico amore, grazie! Wow! Ok, d'accordo! Non te ne pentirai, cara! Lasciati abbracciare! Wow, congratulazioni! Non vedo l'ora di andare in luna di miele! Ora siamo sposati! Quindi condividiamo le facciande domestiche! Sono così figo! È legale! Ehi, voglio anch'io quella cravatta! Per favore, dammela! Smettila ora! Dammela, oppure ti strangolo! Ok, va bene! Però prima dobbiamo personalizzarla! Questa cravatta sarà bellissima! Aggiungiamo delle catene! Che belle! E un paio di dettagli! Questo jabbat nero aggiungerà un po' di aristocrazia! E ora è il mio piccolo tocco! Ora è tua! No, no! Non puoi metterla con questi vestiti! Ecco! Ora sei un vero vampiro! E io indosserò quella che mettevo quando andavo ancora in ufficio! Oh, sembri così stupido! Beh, ho avuto questo aspetto per tre anni! Tutti a scuola saranno pazzi di me perché sono super elegante! Sei così romantico! Solo con te! Mamma, questo è per te! Oh, è imbarazzante! Oh, piccola! È così carino! Ha così tanto talento! Guarda! Papà, questo è per te! Il mio ragazzo! Oh, che schifo! Mi stai solo copiando! Io voglio più bene alla mamma! No, se no io che voglio più bene al papà! Oh, cosa sei? Uno stupido pappagallo? Ragazzi, scrivete nei commenti chi amate di più, la mamma o il papà! Oh, che posso ascoltare? Oh, ora non avrai più niente da ascoltare! Ehi, ma che stai facendo? Ora va meglio! Ma cosa hai fatto? Sei fuori di testa! Lasciami in pace! Strambo! Basta! Mamma, guarda cosa ha fatto ai miei cd! Hai visto? Dammeli! Ho un'idea! Basta un po' di immaginazione! Cos'è? Wow, è così figo! Mamma, grazie! Non vedo l'ora di giocarsi! Oh, fallo rotolare fin qui! Ok, prendi! Wow! Sono così felice che non stiate più litigando! Troom, trum, trick! È una figata, papà! Certo che lo è! Oh, che altro mi rimane da fare? Cos'altro mi rimane? Volare! Ma certo! Tesoro, guarda qua! Che schifo! Li hai cucinati tu? Oh, però sono più buoni di quanto sembrano! Forza, amore! Mangia! Vuole avvelenarmi o cosa? Se i palloncini volano, allora posso farlo anch'io! Li legherò a me! Wow! Cosa? Papà, aiuto! Aspetta! Ah, userà queste! Preso! Mi hai spaventato! Piglia, tu sei un vampiro! Non hai bisogno di palloncini! Troom, trum, trick! Diventa un pipistrello e sbatti le ali! Sì, ho capito! Grazie! Finalmente siamo solo io e te! Questo è per te! Cos'è? Orecchini? Perché sono così strani? Beh, quando li ho comprati erano una collana! Tesoro, hai visto la mia collana? No! Che bambina cattiva! Cara, non preoccuparti! Va tutto bene! Devi solo rilassarti! Ora sto bene, basta così! Tesoro, dà là a tua madre! Trasformiamolo in un bel top! Aggiungiamo del tool! E usiamo le parti rimanenti della mia collana! Semplicemente meraviglioso! Allora, lo vuoi provare? È così bella! Grazie! Queste dalle a me! Non sono un giocattolo! Questo outfit dimostra che sono dolce e simpatica! Adoro le ristrutturazioni! Mamma, posso aiutarti? Sei pronta? Sono sempre pronta! Ehi, che succede? Perché mi stai dipingendo? Ma che bel rullo! Io so come usarlo! Troom, trum, trick! Seguimi! Ricordi la nostra lista! Una vera sirena dovrebbe avere le squame! Allora che ne pensi? Wow, è una figata! Lo sapevo! E ora il viso! No, 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 no! Per quello abbiamo il trucco! Più in fretta presto! Cosa? Ti abbiamo fatto uno scherzetto! Ok, ragazzo, vai da tuo padre! Torniamo al trucco! Sii seria, per favore! E ora puliamo un po' la tua pelle! I tuoi pori torneranno a respirare! Grande! Sono pronta? Abbiamo appena iniziato! Wow, sono così bella! Figa, eh? Oh, sì! Ora sono irresistibile! Torniamo a giocare! Oh, la coda! Come abbiamo potuto dimenticarci, ne creiamone una! Dove l'ha messa? Era in cima alla lista! Oh, l'ho trovata! Guarda, tesoro! Questa è la mia coda da ballo! E sarà perfetta per te! Cosa avete lì? Cos'è? Mamma, ma tu eri una nerd! Cosa avete da ridere? Oh, non posso crederci! Sei davvero tu! Non è divertente! Credi che questo sia divertente? Guarda tuo padre! Oh, wow! Anche tu eri un nerd! Non c'è niente di divertente! Oh, tesoro! Non ti offendere! Piccola, provala! Presto, papà starà bene! Avanti, fammi vedere! Mamma, è incredibile! È proprio come te! Buonanotte, piccola teppista! Oh, hooligans! Proprio quello che volevo! Ancora non ne hanno idea! Trum, trum, tricco! Dimenticherete di essere un vampiro e una sirena! E nessuno potrà aiutarti! Che succede qui? I nostri bambini! Oh, no! Devo scappare! Tesoro, guarda! Mamma, che c'è che non va in noi? Ho paura! Tesoro, ascolta! Io so come fare! Tieni, Cat! Oh, sì! Seguitemi! Figliolo, vuoi essere come me? Sì! Che incubo! Non sei mica un lupo mannaro! Non puoi andare in giro con questi artigli! Ti servono unghie davvero vampiro! Cosa hanno di speciale? Che significa? Ops, ho sbagliato mano! Eccola qui! Figa, no? Vuoi avere le stesse unghie? Posso farlo anch'io? Non mangiarti le unghie! Ho un gadget speciale! Assolutamente igienico! Questa è la migliore invenzione dopo la lima per le unghie! Grazie, papà! Nessun problema, amico! Siamo un passo avanti! Ok! Oh, che bella! Quale posso scegliere? Credo di aver trovato la parrucca più originale! Oh, smettetela di guardarmi così! Oh, è tutto appiccicoso! Oh, è disgustoso! La mia faccia! Vattene da qui avanti! Oh, è così sensibile! Questa acconciatura non va affatto bene! Oh no, ho solo peggiorato la situazione! Oh, finalmente l'ho tolto! Ehi, ti serve aiuto? Come hai fatto? Questa acconciatura è un rompicapo! Non puoi andare in giro così! Kat penserà che sono stato io! Che ci falla è qui, signorina Anchovy? In realtà è tua figlia! Allora cos'ha che non va? Sei stata avvolta da un'elica? Mi dispiace, è colpa mia! Oh, le mie zanne! Tesoro, ora li sistemiamo! Oh, almeno li copriremo! Fantastico! Mi sta davvero bene! Oh, facciamo anche le trecce! Sì, questo gadget ti trasformerà in una bellezza molto velocemente! Guarda qua! Ora, usiamo una porcina! E il tuo nuovo look è pronto! Grazie, mamma! Ti sta davvero bene! Sono la migliore! Come va, amico? Voglio volare! È troppo presto! Ma ecco, possiamo provare a fare qualcosa! Guarda qua! Wow, che figo! Sì, queste sono le mie ali da bambino! Non le vedevo da tanto tempo! Provale! Wow, certo papà! Poi potrò volare! Sì, non avrai bisogno di una bara per ora! Torno subito! Io intanto mi eserciterò! Wow! Oh! Ma non volare troppo in alto! Ho una licenza per questo! Ne avrò una anch'io! Prima dovrai superare l'esame della scuola per vampiri e dovrai aspettare! Ok, vediamo cos'altro mi serve! Una coda! Oh, forse dovrei farne una io! È facile! Esattamente quello che serviva! E ora ha bisogno delle pinne! Perfetto! Credo che queste vadano bene! Due! Basteranno! Ora ho una vera coda! La mamma sarà così orgogliosa di me! Andiamo! Wow! Un'intera collezione! Penso che non le dispiacerà se ne provo una! Uh! Sembra un tonno in scatola! Levatemele! Tesoro, sei qui! Cos'è quella? È la mia coda! Aspetta un attimo! Pablo, hai trovato il ladro! Eccomi! Cara, perché l'hai fatto? Esci di lì! Allora, raccontami tutto! Volevo essere come te e ora sono bloccata qui! Ok, piccola, penso di poter risolvere il problema! Sei pronta? L'aria calda farà sì che la coda si restringa e diventi della tua taglia! E ora aggiungiamo un po' di personalità! Troom troom trick! È bellissima! Grazie, mamma! E non è tutto! Penso che questi eleganti manicotti ti staranno benissimo! Chiameremo questo stile Ocean Grunge! Ti piace? E naturalmente aggiungiamo qualche decorazione marina! Favolosa! Sì! Sei la migliore! Sono perfetto! Voglio anch'io quell'acconciatura! Spero di poterla fare! Oh, il gel di papà! Chissà se è magico! Bagniamo i capelli e passiamo allo styling! Che è successo? Aspetta! I capelli sono ancora qui! Iniziamo a preoccuparmi! Oh no! Il fan non è bastato, tesoro! Puoi venire un attimo? Dobbiamo asciugare i capelli! E non possiamo farlo senza di te! Ci aiuterai? Nessun problema! Tipone! Wow! È troppo! Figlio, stai bene? È come se fossi sulle montagne russe! Tesoro, ok? Basta, è già asciutto! Ti prego, smettila! Ancora? Congratulazioni! Oggi è il compleanno di qualcuno! Buon compleanno, tesoro! Voglio i regali! Hai espresso un desiderio? Puoi spegnere le candeline! Non posso! Ti aiuto io! Non è il tuo compleanno! Prova di nuovo e più forte! Forza! Wow! Penso che tu abbia perso qualcosa! Troom trum trick! A volte aiuto la fatina dei denti! Questo è per te! Tesoro, porta i drink! Torno subito! Dove sono? Ops! Sono così maldestra! Vieni! Sono solo un po' nervoso! Sbrigati! Oh, andiamo! Sento che sto solo peggiorando le cose! Gabrielle, perché ci vuole così tanto? Sto facendo quello che posso! Ok, andrà bene! Chi vuole bere? Servitevi pure, ragazzi! Oh, cos'è questa puzza? Anche a me non piace! Forse volete scambiarlo? Non ti chiederò mai più nulla! Provate ora! Perché rovini sempre tutto? Buonissimo! Oh, aspetta! Quello è un lecca-lecca? Non puoi avere altre caramelle! Ridammelo! Non similare a tuo padre! Cos'hanno i tuoi denti? Dobbiamo lavorare su queste zanne! Non vediamo l'ora che crescano i nuovi! Mmm, ho un'idea! Proprio quello che non serve ci aiuterà! Incogliamo le zanne sopra il lecca-lecca! E poi avrei una maschera per le zanne! Wow, un'idea fantastica! La farò vedere a mamma! Mamma! Devi avere paura! Oh, non spaventarmi! Questo sì che è un bello scherzo! Perché? Tesoro, guardiamo la nostra lista di controllo! È il momento del trucco! Penso che possiamo gestirlo facilmente! Ehi, che stai facendo? Mamma, smettila! Lo farò da sola! Rovinerai tutto! Non sono una bambina! Smettila! Non fare così avanti! Non è divertente! Su! Ho un'idea! Pablo? Ho bisogno del tuo aiuto! Te lo ridarò, te lo prometto! Ora il portacellulare è pronto! Decoriamolo un po'! Et voilà! Fatto! Guarda! Trumtrick ha un nuovo video! Wow! Una tv nello specchio! Che figata! Ha funzionato! E ora facciamo le sopracciglia! Un po' di cipria! Guardami! Wow! Che bello! Grazie! Questo trucco ti dona molto! Ehi, figliolo! Vieni qui! Il tuo look da vampiro ha bisogno di qualche altro dettaglio! Trumtrick? No! Non funziona! Neanche questo! E questo da dove viene? Ok! Ci penso io! Abbiamo bisogno di stoffa bianca e pizzo! Mettiamo tutto insieme e pieghiamo! Il fiocco da vampiro è fatto! Vuoi provarlo? Oh! Quasi dimenticavo! Mancano le decorazioni! Incolliamole con la colla a caldo! Wow! È molto bello! Sembra molto più aristocratico! Va bene! Puoi andare? È il momento della cena! Sei sicura che diventerà immortale? Gabriele! Toglila dal tavolo! Hai dimenticato che non si mangia insalotto? Ci vediamo in cucina! Vattene da qui! Tesoro! Non avrei lasciato briciole! Qual è il problema? Il problema è che qualcuno ha dimenticato la sua dieta! Non posso più mangiare insalata! Aspetta un attimo! So chi può farlo! Che vuol dire che non lo mangerai? Neanche tu! Non pensarci proprio! Io non lo voglio! Ah, traditori! Non mi lasciate scelta! Ipnosi! Ok! Come ho fatto a dimenticarlo? Che giornata stancante! È ora di dormire! Ti ho trovato amante del sangue! Oh, che incubo! Papà, era uno scherzo! Stai bene? Papà! Preso! Ci è mancato poco! Guarda i tuoi vestiti! Non verrà mai via! La mamma ci ucciderà! La mamma ci ucciderà! O forse no! Se usiamo un po' di stile! Sai dove non si vede il rosso? Esattamente! Su qualcosa di rosso! Figo! Sei un genio! Ora il mio look è davvero unico! Oh! Ma da dove viene questo? Deve essere strisciato fuori dal canale di ventilazione! Ho trovato la sua tana! Forse il ragno nasconde i suoi tesori qui! E quello cos'è? Non posso credere ai miei occhi! Papà sta provando la coda della mamma! Oh! Figlio! Non è quello che... Papà! Ora sembri mamma! No, no, no! Volevo solo sapere che taglia porta! E perché tu sei tutto coperto di ragnatele? Dove sei stato? Vuoi raccogliere tutte le mosche della casa? Per fortuna ho questo guanto! Credo che raccolga tutte le ragnatele e anche i peli del cane! Bravo! Papà, io non sono un cane! Oh! Potrei invitare un lupo mannaro! Ma tu non lo attaccheresti, vero? Guarda cos'ho! Dai, ripartalo a papà! Ehi! Che c'è che non va in questa coda? Com'è possibile? Ok, ne proverò un'altra! Cosa? È uno scherzo? Smettila! Tesoro, sei finalmente pronta! Vieni, ti parto a scuola! Figlio, ho tutto quello che ti serve! Buona giornata, piccolina! Fai il bravo! Oh, sei nuovo? Vieni con noi! Ciao! Finalmente posso essere me stesso! Che c'è? Non importa! È così figo! Se i miei calcoli sono corretti, è qui! Sì, è lui! Che c'è di meglio di un picnic nella natura? Ehi! Non pensarci nemmeno! Lo sto inseguendo da un mese! Niente rovinerà questa serata! Ehi! Vattene da qui! Il mio nome è Ruby! E da questo lato sei ancora più bello! Spero che tu faccia la seta giusta! Non capisco! Non volevo ricorrere a questo, ma devo farlo! Ehi, bello! Ops! Non volevo farlo! Che schifo! E non li lavi neanche! Sei una perdente! Di nuovo! E che ne pensi di me? Non siamo fatti l'uno per l'altro? Voi siete fatti l'uno per l'altro! Anche tu sei una perdente! Questo deve essere uno scherzo! Hai dimenticato qualcosa! È una differenza enorme! Ok! Sono stanco di voi due! Ciao! L'hai spaventato! È tutta colpa tua! L'ho visto prima io! Lasciami andare! No! Lui è mio! Sei così cattiva! Posso farlo da sola? Wow! È sempre stato così spazioso! Beh, i ricchi sanno come rendere tutto più bello! È un quadro, quello! Beh, io potrei al massimo ritagliare i personaggi da un pacchetto di cereali! Ehi! Fate largo alla principessa! Ha le scarpe d'oro! È la nuova collezione! Fa male! Signora, i suoi acquisti! Non importa! Stanno per arrivare grandi cose e tu ti libererai di questo focolaio di povertà! Ok! Bene! Non preoccuparti! Puoi usare la classe business per volartene via! Grazie per aver utilizzato i nostri servizi! Ehi! Perché i ricchi sono così crudeli? È atterrata! Signora, la sua maschera! Grazie! Proprio quello che mi serviva! Presto diventerò una vampira! Oh! Vuoi superarmi? No! Non ce la farai! Oh no! Non ho nemmeno il trucco! Oh! Questi ombretti sono distrutti! Che posso fare? Ci sono! Ho un'idea! Agente speciale Fingers! Chi aspetta un compito serio? Fantastico! Ora sì che possiamo lavorare! Questa maschera sarà naturale! Un frullatore ci sarà molto utile! Molto meglio! Carichiamo la frutta e la verdura nel contenitore e accendiamo! Oh! Pronti! Possiamo provarlo! Versiamo tutto nello stampo! Che bellezza! Bellezza! Dobbiamo solo aspettare che si raffreddi! Beh! In realtà quando sarò diventata una vampira non avrò più bisogno di maschere! Oh! Finalmente! Troom troom trick! E la maschera è sul viso! Cosa? Come ha fatto? Ehi! Guarda che questo non è un piatto! Oh! Meglio bruciarlo! Ok! Vediamo che c'è nella lista! Oh! Mi occuperò del mio abbigliamento! Perfetto! Ho tantissimi bei vestiti! Signora! Il suo guardaroba! No! Non è quello che mi serve! Voglio un look completamente diverso! Ecco la sua troom card d'oro! Meno male che ce l'hai tu, paga! Wow! Questo è proprio quello che sognavo! Grazie! Oh! Mi calza alla perfezione! Del resto ho i migliori surfi! Cosa? Davvero? Anch'io voglio un costume da vampira! Beh! Questo era per l'ultimo Halloween! Ma comunque... Gli darò una pulitina e tornerà come nuovo! Controlliamo il mio trucco! Oh no! Non va bene! L'ombretto d'oro mostrerà quanto sono esclusiva! Troom troom trick! Wow! Una tendenza più cool di quest'anno! Che posso scegliere? Ma che stai facendo? Voglio farlo anch'io! Forza, Mela! Dov'è il mio eyeliner? Cosa? È tutto quello che ho! Ma io voglio mangiarti! Come sta, Ruby? Ok! Per avere qualcosa di nuovo, devo liberarmi di qualcosa di vecchio! Facciamolo! Ora va molto meglio! Devo solo applicare qualche adesivo! Ora vi farò vedere! Ecco fatto! Perfetto! Fasci di essere la più piga? Ti farò vedere il potere del patto a mano! Ho ritagliato due sezioni da un blister di pillole! Oh! Non sembra male! E ora ritagliamo la testa da un coton piocco! Snip! E ora, con l'aiuto della colla, colleghiamo il foglio e il supporto! Oh! Esatto! E ora dobbiamo solo capire dove trovare gli ombretti! Ma certo! Posso sbriciolare un mattone e ridurlo in polvere! Oh! Ha funzionato! E ora lo mettiamo sul bordo dell'occhio e ci godiamo il nuovo look! Ecco fatto! Ora sono una vampira di prima classe! Sì! Ok! Troom troom trick! Oh! La carta d'oro mi apre tutte le porte! Vediamo che c'è qui per i clienti VIP! Ecco quello che mi serve! Un trituratore di capelli! Attenzione vampiri! Sarò presto da voi! Vediamo che c'è qui dentro! Oh! Wow! È tutto così carino! Per prima cosa, dobbiamo togliere tutto quanto dalla scatola! E ora apriamo lo scrigno! Mettiamo qui! Ti è piaciuto il nuovo video? Allora metti un like, iscriviti e clicca sulla campanella! Alla prossima!